La crisi economica legata alla pandemia incide sulle tasche dei cittadini torresi che sembrano voler rinunciare alle vacanze estive. Dalle prime interviste raccolte dalle telecamere di TV City, in molti preferiscono restare a casa, anche per la paura dei contagi. Lei quest'anno andrà in vacanza? No, perché sono senza soldi a causa della pandemia, non lavorando non riesco ad andare in vacanza. Un'estate nera allora sarà? Sì, un'estate molto nera, molto all'insegna della sofferenza a causa di questa pandemia che ci ha soffocato, quindi speriamo più presto di avere una buona riuscita a settembre che non ci giuderanno. Secondo lei gli italiani e i torresi in generale andranno in vacanza? Io penso di no, perché già come si evince si vede già il traffico che c'è, la gente che popola le strade di Torre del Greco, anche in settimane, quindi penso che non hanno abbastanza soldi a sufficiente da potersi muovere. Niente vacanza, perché? Per via del Covid, abbiamo paura. Per paura? Ah sì. Pensa che la situazione sia ancora complessa? Penso proprio di sì, penso che chiuderemo a breve. Perché? Perché nessuno si vuole vaccinare, quindi... Lei si è vaccinata? Sì, sono vaccinata. Lei quest'anno andrà in vacanza? No. Come mai? E so di noggene su. Preferisco stare qua, ma visto sto casino... Ha paura del Covid? No, non tanto. Se tu rispetti certe regole, perché poi per quanto le rispetti e gli altri se ne furtano, scusa l'espressione, non ha senso poi... Rischiare? Rischiare. Secondo me sì, perché poi non è mai... Cioè diciamo sempre è colpa degli altri, ma a volte forse siamo pure un po' noi stessi che, capito, siamo a predicare bene, ma spesse volte razzoliamo male. Secondo lei i cittadini torresi andranno in vacanza? Ma io penso che è un casino ci vanno. Io penso che è un casino ci vanno. Per quanto gli anni scorsi te ne accorgivi dal fatto che vedevi meno gente per strada in certi periodi, vuoi di luglio, vuoi di agosto, no? Ma magari nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, causa Covid, questo lo vediamo un po' meno, perché la gente vuoi Covid, vuoi situazioni economiche che non è facile per nessuno di questi tempi... La crisi è tanta? Secondo me si vede, si vede, no? Se la smettono di fare politica tutto si mette a posto. In questa città stanno rispondendo alla campagna vaccinale, i torresi? Certo, stanno rispondendo, come no? Andrò dai miei figli? Paura del Covid? No, sono vaccinata, io, mio marito, mia figlia, sì. Andrò a trovare i miei figli? La paura c'è, però con le giuste attenzioni, cioè ci andiamo. Secondo lei a Torre del Greco i cittadini hanno risposto alla campagna vaccinale? Non tutti, la maggior parte no. Questo scetticismo da che cosa dipende? Non lo so, sinceramente. Io l'ho fatto e sto incentivando le persone a farlo, perché sono per la vaccinazione. Sperando che ne usciamo al più presto, perché sinceramente ho due figli piccoli e non vedo l'ora di uscire da questa pandemia, proprio per ritornare a vivere.